Ciao, sono da Kareli, che ti ho aggiunto alla Mystery Box, fai da te, fatta da papà. Sì, vabbè, mi vedi, però facciamo, questa qua è da 10, questa è da 100, facciamo, come si chiama? Sassu, dai, facciamo. Carta, forbice, sasso, carta, forbice, sasso. Vento la mamma. No, 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 chi vinceva me va quando è da 10 euro. Nikita è solita, come se... Dai, partiamo, non perdiamo ginne, abbandoniamo le ciance. Allora, mia da 10 euro e Nikita è da 100. Non si può vedere cosa c'è dentro, va. Perché non si può vedere? Eh no, perché come nel video, devi pescare quello che trovi. Eh, pesca allora. Tanto da fare insieme. Apri. Io inizio a tirarsi da questo. Aaaaaaah, se non è nera. Cos'è? Ma sono così tanti, papà? Tutte per le pite? Sì. Ma cosa dici se facciamo così? Poi le regaliamo. No, è sbagliato. Ho sbagliato. Oh, che bello, papà. Come era pesante. Ce l'ho anch'io, vine. Mamma. Eh, tanto è insieme, hai detto che insieme. È finito. Che bello, queste sono le cole per fare slime. Voglio scoprire cosa c'è dentro questi. Squish morbidosi. Quando vado a scuola, devo portare questo. Adesso potrò fare la casa. Non regaliamo niente, mamma. Come non regaliamo niente? Mamma. Questa qua si illumina il buio. Nessuno si può regalare. Guarda com'è. Come sono queste mucce sorprese? Io le voglio tenere tutti. Vediamo anche quale. Quali pensi che sono feroci? Io penso che questa, questa. Dopo la spegniamo a luce, vediamo quale. Eh, però dovremmo essere... Voi a spegnarla, dai. Tu pensi quale? Tu pensi che per questo? Vediamo se l'ho indivinato. Spegniamo? Mamma, sono due. Solo due? Sì. Ah, io pensavo di più. No. Un vestito da cowboy con cavallo. Voi che cavallo. Gida. Vieni, vieni qua, apriamo per la gente a mia scatola. O dieci euro. No, no, no. Io farò così, io bene. Non ho pazienza. Questa non è bene. Eh, scusa, ma è mia scatola. Mia scatola, vediamo cos'è. Vediamo cos'è. Oh, mamma mia, cos'è questa per le calzine puzzolenti. Non è per le calzine. Questa non è per me, questa è per Nikita. Così si apre. È mio, mamma. Mi hai lasciato un pochino. Ah, Nikita, era mia scatola? No, ce l'era. Ma che scusa, mi hai mangiato... Vediamo. C'è scritto con una penna. È una penna questa qua. C'è un aspetto mio. Già perso, se crede. Sono troppo intelligente. Vediamo se scrive, sì, scrive anche. Nikita, Monello, Monello. Eh, questo è mio anche. Questa è il cielo. Oh, prima che galoppi via, salutiamo, va. Allora, io ho trovato calzine anti-scemo e anche di mia misura. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ragazzi, Nikita, vettete, iscrivetevi al canale, vi piace, ciao, ciao. Anche a te. Va bene, però anche il cavallo è bellissimo. Scrivetevi a commenta quale sorpresa vi piaciuta di più. Ciao, ciao. 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 Ciao.